Due parole veloci sulle immagini imbarazzanti e di uno squallore più unico che raro riguardo le persone che chiedono i selfie a Maria De Filippi a pochi passi dal ferretro di Maurizio Costanzo. Qui siamo veramente di fronte alla miseria umana, al degrado più totale dal punto di vista culturale e intellettivo. Il punto è che fermo restando che Maurizio Costanzo riposi in pace, lui e sua moglie Maria De Filippi sono stati tra i principali artefici, responsabili e protagonisti, proprio di quella tv spazzatura che per generazioni ha fatto il lavaggio del cervello e lobotomizzato milioni di italiani e che ha portato a questi risultati, ovvero alla richiesta di un selfie in una camera ardente. Il trash divulgato attraverso il loro modo di fare televisione oggi si palesa e riemerge nei loro stessi telespettatori.